Carla Fresta e la Miss Caro Mike, eletta ieri sera nel corso della terza tappa regionale della rassegna di bellezza Caro Mike, ideata da Michele Maccarone. La serata si è tenuta nel Cineteatro Garibaldi riscuotendo ampio successo, eletta ieri sera anche Miss Conf Commercio, Rossella Messina, Miss Assicurazioni Arcidiacono, Alessandra Somarati, Miss Severino Lopo Francesca Gullotta, Miss Dionea Viaggi, Wendy Granata. Tutte queste Miss accederanno di diritto alla finalissima della sedicesima edizione della rassegna di bellezza regionale Lidin Passarella, programmata nella piazza 9 aprile per sabato 26 agosto a Taormina. Elette anche le semifinaliste della Sicilia orientale Tamara Galato, Lambra Cantarella, Elisabetta Grasso, Giorgia Basile e Nadia Roccamena. La serata presentata da Michele Maccarone e Sara Barone è stata arricchita da segmenti di spettacolo con artisti di ottima fattura, tra cui l'esilerante attrice Giovanna Criscuolo, la cantante Sara Pizzolo e il duo delle gemelle Aurora e Giada Fuso, il gruppo folk Vecchia Ionia, la milinista Esther Piraino e la ballerina Sonia Saporito da Corleone e il cantastorie Rosario Todaro.